Ha preso il via sabato scorso a Racalmuto la seconda edizione della rassegna di artisti contemporanei dal titolo Nei luoghi di Regalpietra, omaggio a Leonardo Sciascia. La manifestazione, ospitata nelle sale del Castello Chiaramonte, nasce dalla collaborazione instaurata tra il direttore artistico del Castello, Piero Baiamonte, e il centro studierato di Agrigento, diretto da Nello Basili. L'iniziativa, che vuole promuovere il dibattito sulle arti contemporanee, fa da prologo ad Agrigento Arte, la mostra internazionale d'arte moderna e contemporanea che giunge alla sua settima edizione. La rassegna sarà fruibile fino al prossimo 25 settembre. Le opere sono esposte oltre che nelle splendide sale del Castello Chiaramontano, anche presso la nuova sede dell'ex macello comunale di Piazza Fontana e presso il Circolo Unione di Racalmuto, di cui Leonardo Sciascia fu illustre socio. Per la serata inaugurale della manifestazione è stato presentato al pubblico il libro di Pippo Picone, Tipi e figure di Racalmuto, tra 800 e 900. L'opera dell'ottantenne autore traccia il profilo di 27 figure della Genesis Racalmutensis che fra l'800 e il 900 hanno segnato la storia della città della ragione.